Ok amici, questo è l'ultimo intervento di oggi, vi ruberò poco tempo ma ho una storia molto bella che penso vi piacerà, io mi chiamo Lorenzo Piccinini e da tre anni ho iniziato questa avventura divulgativa tramite una tv, tramite un emittente regionale dell'Emilia Romagna che mi ha concesso questo piccolo spiraglio per poter divulgare queste verità che coprono un ampio ventaglio di tutta questa faccenda perché si va dall'esoterico all'ufologico, ai messaggi mariani, alla spiritualità connessa alla tecnologia perché abbiamo visto grazie ad Alberto che certe cose riguardano la luce e la luce la nostra cultura la immagina come tecnologia. Quindi io intanto ringrazio di nuovo Davide per la giornata di oggi, grazie grazie grazie. E per me è un onore essere qui con voi oltre che condividere questo, chiamiamolo palco, con Alberto e Silvia veramente che sono speciali, un applauso anche a voi. Allora in chiusura di questa giornata io voglio farvi un regalo, un regalo che viene dall'altra parte del mondo come potete vedere, adesso piano piano ne parliamo. Io e la mia compagna Serena che mi accompagna sempre in queste cose, studia con me eccetera, siamo appena tornati dal Messico, come potete vedere e in questo viaggio siamo entrati in connessione con una bellissima realtà. Dunque questa è la mappa di città del Messico, innanzitutto il Messico di solito non ci si fa caso ma è una nazione molto estesa, sia a livello di area che di numero di abitanti. Provate a dirmi chi lo sa, chi prova a indovinare, quanti abitanti ha città del Messico? La capitale. La metà dell'Italia, 30 milioni. Pensate un po', solo città del Messico. Il totale dell'intera nazione si avvicina intorno ai 127 milioni, ok? Ciò che vi racconterò riguarda appunto città del Messico, che possiamo vedere dove è ubicata. Siamo più o meno nel centro e ci avviciniamo al sud, no? Il luogo però di cui vi parlerò riguarda il nord di città del Messico, ok? A nord di città del Messico cosa succede? Ci si avvicina alla periferia. Siamo più o meno a metà tra il centro e il sito archeologico di Teotihuacan. Teotihuacan è un complesso di piramidi meraviglioso, pieno di misteri, che ovviamente chi studia li conosce, chi non studia li ritiene manufatti umani, ma ci sarebbe da dire tantissimo. Ora, a metà tra il centro di città del Messico e Teotihuacan si trova l'inizio di questa periferia. Su quelle colline, vedete la distesa di quei pixel, diciamo? Sono tutte favelas. Tutte favelas di un terreno arido, pieno di arbusti, dove anche, diciamo, il sostentamento, i viveri arrivano a fatica. E quindi io mi chiedo come quelle persone possano sopravvivere. Cosa successe in quell'area? Successe che nel 1531, grazie Alberto, nel 1531 venne divulgata una storia. Una storia scritta dal nipote dell'imperatore azteco Montezuma, chiamata Nikan Mopowa, e scritta in lingua Nahuatl, la lingua azteca. Nel 1531 siamo solo a dieci anni dalla conquista definitiva spagnola nelle terre messicane, dai genocidi crudelissimi di Hernán Cortés e della sua banda di soldati che andarono a distruggere quella cultura. È stato bruciato tutto. Ciò che ci è rimasto è uno scritto di un prelato, Diego de Landa, che ci riportò la cultura dei maia, degli aztechi, il loro modo di vivere. Ma ovviamente io penso che tutta la branca misterica sia stata data alle fiamme. Cosa successe nel 1531? Che un uomo del popolo, chiamato Juan Diego, si stava recando verso la città, per imparare le dottrine della nuova, appunto, dottrina imposta da Cortés e i suoi amici. Attraversando una di queste colline a nord di città del Messico, chiamata Tepeyac, successe che si imbatte in un canto di uccelli. Questo canto, stiamo parlando di vibrazioni, come diceva Silvia prima, gli diede una grande pace, proprio perché sono onde elettromagnetiche queste vibrazioni. A un certo punto queste onde, questo canto, si interruppe e lui rimase nel silenzio più totale. Dopodiché questo silenzio si ruppe di nuovo e una voce molto angelica, molto celestiale, lo chiamò, gli disse Juanito, Juanito Diego. Lui ovviamente interdetto, rimase un po' così e cercò di seguire la voce. e quindi andò in direzione di quella voce. Attraversato il valico del Tepeyac, si trovò davanti, ecco, scusatemi, questo è Juan Diego chiamato Quaotlatoatzin, ok, nome asteco. Quindi se erano solo dieci anni dalla conquista spagnola, questi nomi erano ovviamente ancora in uso. La situazione in cui si trovò Juan Diego fu questa. Ci fu un'apparizione. Ci fu un'apparizione di quella che poi, state già dicendo, è diventata la Vergine della Guadalupe. Ma come si sviluppa questa storia? Che questa donna, io la chiamo, come diceva William Blake, la donna vestita di sole, perché era lucente, no? Gli espresse la sua stima, il suo amore per lui. Gli spiegò quanto era importante per lui, nonostante fosse un semplice uomo del popolo, ignorante e povero. Dopodiché ci fu il primo dialogo tra la donna e l'uomo. Questo primo dialogo disse, Juanito, mio piccolo figlio, dove vai? Signora mia, sto andando in città, a casa tua, ad imparare le cose di Dio. Quindi anche lui, nonostante l'ignoranza, l'essere un popolano, aveva già capito chi aveva davanti. Io sono la Vergine Maria, madre del Dio che dà la vita. Sappi e tieni presente che tu sei il più piccolo dei miei figli. Desidero vivamente che in questo luogo mi venga costruita una chiesa, dove far vedere tutto il mio amore, la mia pietà, il mio aiuto e tutta la mia protezione. Io sono vostra madre, piena di compassione, tua e di tutti voi che vivete in questa terra e di tutti gli uomini che mi amano e mi invocano. Vai nel mio nome e stai sicuro che ripagherò ciò che farai e ti renderò felice. Ora, cosa chiese questa donna a Juan Diego? Chiese di presentarsi al vescovo in carica di quegli anni, fra Juan de Zumarraga, ok, per chiedergli di erigere in quella zona una basilica, una chiesa, in onore, appunto, della Madonna, in modo che si cominciasse a vivere questa realtà. Juan Diego, ecco, questo era Juan de Zumarraga, Juan Diego si presentò a lui spiegando dell'apparizione, spiegando, diciamo, del miracolo, ma ovviamente l'uomo di chiesa, ovviamente appena insediatosi da pochi anni, non credette a un uomo del popolo, a uno straccione, cosicché Juan Diego tornò a casa, diciamo, molto triste per il risultato ottenuto e la Madonna che gli apparve di nuovo si sentì dire da da Juan Diego guarda, io non ce l'ho fatta, manda qualcuno di un po' più importante rispetto a me perché io non posso riuscire ad arrivare a fare erigere addirittura una chiesa su una collina a chi comanda su noi poveracci, no? E qui abbiamo il secondo dialogo fra i due. Ascolta figlio mio, tieni presente che sono molti i miei servitori e messaggeri ai quali avrei potuto affidare questo messaggio e che avrebbero obbedito ma è stato deciso che proprio tu debba portare avanti questo compito e darti da fare per realizzare la mia volontà. Juan Diego rincuorato evidentemente, no? I poteri di un essere del genere hanno inviato vibrazioni che hanno dato luogo a Juan Diego di riprendere vigore torna da Juan Fran dal vescovo ma viene rifiutato una seconda volta. Cosa succede? Che torna a casa di nuovo e non essendo stato creduto oltre a questa diciamo batosta seconda batosta successe un altro imprevisto che quella sera egli trovò a casa lo zio si chiamava Bernardino a letto morente allora cosa successe? Che Juan Diego uscì di nuovo di casa per cercare un medico un medico che trovò e arrivato a casa gli disse purtroppo lo zio già avanti con l'età non c'è più niente da fare Juan Diego tornò la mattina dopo per cercare un sacerdote in modo che lo zio potesse morire in grazia e cercò di aggirare il valico del Tepeyac per far sì che la donna vestita di sole non si manifestasse Juan Diego da ignorante siamo sempre lì aveva paura di perdere tempo per le condizioni dello zio la donna però gli si manifestò davanti e oltre a promettergli un segno inconfutabile quindi di tornare di nuovo dal vescovo Zumarraga gli disse questo che ti succede figlio mio dove stai andando signora mia ragazza mia come ti sei svegliata stai bene immaginiamoci noi no impauriti devo andare ho lo zio che muore lasciami stare non sono qui io tua madre ascolta e ricordati figlio mio quello che ti spaventa e ti affligge non conta non si turbi il tuo cuore non aver paura di questa malattia o di qualsiasi altra malattia o angustia non sei forse sotto la mia ombra e protezione non sono io la tua salute non stai sul mio cuore e fra le mie braccia di che cos'altro hai bisogno e qui ritorniamo a ciò che Silvia e Alberto ci dicono da tempi memory lascia tutto a me non ti preoccupare allora che cosa succede che la vergine chiese a Juan Diego di raccogliere delle rose presenti sulla cima di quella collina lui prese queste rose le mise nella sua cappa quella che vediamo legata alla spalla la cappa sarebbe la tunica andò dal vescovo Zumarraga e successe questo egli aprì la tunica caddero queste rose ai piedi del vescovo e nello stesso momento in cui aprì la tunica si impresse sulla cappa l'immagine della vergine di Guadalupe all'istante ovviamente il vescovo diciamo rimase convinto da questa manifestazione assieme a tutti gli altri presenti all'incirca dieci persone perché quelle rose appunto erano le rose di Castiglia dette anche rose di Damasco questo mi hanno detto là e qual'era la particolarità di queste rose che le apparizioni si sono diciamo manifestate tra il 9 e il 12 dicembre 1531 e in Messico c'è la brutta stagione non crescono le rose quindi quello fu un segno molto importante la bella stagione in Messico va da febbraio marzo a maggio e da settembre no? tu confermi Giuseppe che ci sei stato da settembre a novembre il resto è un misto di umido sole neve pioggia c'è tutto che vita fanno questi messicani il vescovo quindi si convince accettò di costruire la basilica ma ci fu un altro episodio che portò diciamo tutti a rimanere sconvolti perché poco dopo si presentò diciamo alla corte chiamiamola così dell'uomo di chiesa del vescovo anche lo zio Bernardino di Juan Diego il quale disse di essere stato guarito dall'apparizione della della Madonna quindi bilocazione no? come diceva Alberto ed oltre questo gli disse che si sarebbe dovuta chiamare questa donna Santa Vergine di Guadalupe ora potete immaginare una leggenda una leggenda una storia del 1531 che cosa crea nelle persone no? crea la solita dualità no? c'è chi cerca di distruggere tutte le prove anche le più evidenti c'è chi invece ci crede ciecamente senza magari andare a studiarsi i dettagli di tutto ciò e ci sono quelli che Dante chiamava gli gnavi gli indifferenti che forse sono i peggiori andiamo quindi ad analizzare le prove che abbiamo di questa bellissima storia punto 1 allora le rose di Castiglia abbiamo detto che non crescono a dicembre e che furono date come prova proprio perché il vescovo doveva capire la veridicità di queste apparizioni punto 2 la tunica o tilma dunque prima dell'anno 2000 fu indetta una selezione di esperti per fare ricerche per analizzare questa vecchia tunica questa vecchia tilma la quale già era sfilacciata al tempo ma tramite queste analisi non si trovò segno di altra usura e si scoprì che questa tunica era fatta di un agave messicana che solitamente dura 20 anni ora facendo un rapido calcolo gli anni dal 1531 a oggi sono circa 492 mettiamocene qualcuno in più che era il possesso di Juan Diego di quella tunica no? quindi 492 anni di conservazione di cui io immagino e dico poco il primo secolo solo esposta al caldo torrido del Messico ai cambi di umidità di temperatura e alla polvere cioè non si è rovinata per niente senza vetri di protezione che sono stati poi messi successivamente punto 3 l'immagine della vergine dunque la pittura di cui è composta l'immagine è ancora viva è viva e lucente e cosa successe che un piccolo diciamo pigmento qualche pigmento di questa pittura venne inviato al premio Nobel per la chimica del 1938 Richard Kuhn queste furono le sue affermazioni i coloranti dell'immagine di Guadalupe non appartengono al regno vegetale né tantomeno a quello minerale o animale e non ha un procedimento preparatorio di conservazione sullo sfondo ora già questo potrebbe togliere ogni dubbio ma non finiscono qui le analisi e le ricerche perché successivamente i professori dottor Callaghan e Jody Bransmith che scrissero anche un libro purtroppo non tradotto in italiano The Image of Guadalupe fecero altre analisi molto approfondite a raggi infrarossi e questo fu quello che venne fuori la tela di agave è immune da qualsiasi preparazione non si spiega quindi come i coloranti abbiano potuto impregnare una fibra così delicata ed ancora conservarsi l'immagine attenzione bene si dipinse direttamente così come la si vede senza prove né correzioni si dipinse tradotto a mio parere si impresse perché non trovarono nessun segno di pennellata di gesto umano ecco successivamente si fecero ancora altre analisi e qui entra in gioco la l'analisi digitale perché perché un certo Toria Lavugnier esaminò con un oftalmoscopio ad alta potenza l'immagine della Vergine di Guadalupe successivamente venne analizzata anche da un fotografo dopodiché il dottor Aste Tonsman che lo vediamo qui appunto analizzare i pixel analizzò in maniera digitale ad alta risoluzione l'immagine della Vergine e andando a notare i pixel quindi un ingrandimento incredibile trovò questa cosa qui nell'occhio della Vergine un'immagine allora ragioniamo con logica nell'altro occhio ci sono poi altre figure ok ragioniamo con logica la tilma la tunica è alta circa un metro e cinquanta abbiamo visto che ha figura intera non ci sono pennellate dai raggi infrarossi abbiamo visto il volto della Vergine che è di tre quarti con gli occhi semi chiusi perché guarda verso il basso evidentemente guardava verso Juanito verso Juan Diego quindi io mi chiedo quale mano umana e con quale pennello abbia potuto dipingere queste figure all'interno della pupilla ora il dottor Aste Tonsman per vederci ancora più chiaro cosa fece scattò delle fotografie agli occhi di sua figlia e queste fotografie produssero il risultato del riflesso di ciò che la figlia guardava nel momento dello scatto ora a livello di anatomia si sapeva che la cornea registra ciò e riflette ciò che si sta guardando ma che questa immagine portasse questi riflessi fu incredibile 1500 quindi chi potevano essere c'era un uomo con la barba un anziano con la barba bianca il vescovo Zumarraga Juan Diego lo zio Bernardino e tutti i presenti ora riassumendo il tutto questa immagine perché altrimenti no ci si dovrebbe soffermare sui dettagli molto di più occhi presentano immagini così piccole che sono visibili soltanto con l'utilizzo della tecnologia moderna capelli sciolti per gli aztechi rappresentava la virginità mani unite in segno di preghiera la sinistra più scura la destra più chiara unisce le due razze cosa ci insegna questa apparizione che solo dieci anni dopo questa donna voleva insegnare alla nazione messicana il perdono per un genocidio e questo perché perché evidentemente se quel genocidio è accaduto il popolo messicano con tutta la sua storia aveva raggiunto una saturazione spirituale doveva esserci un cambio e questo probabilmente varrà anche per l'occidente ecco il perché di ciò che racconta Alberto 46 stelle formano una costellazione che fu vista in Messico lo stesso giorno dell'apparizione ora chi studia l'astrologia legata all'antichità guardando i movimenti appunto degli astri eccetera si è accorta che non solo le stelle sul manto della Vergine di Guadalupe corrispondono al cielo di allora ma sono disposte nel modo in cui qualcuno è come se le guardasse da sopra come se fosse un'altra entità che le guardava dal cosmo e questa cosa è assolutamente per me pazzesca la cintura è un simbolo che rappresenta la maternità si riferisce alla gravidanza e alla Vergine i raggi simboleggiano il sole divinità steca sono più brillanti all'altezza del ventre dove portano il grembo il bambino fiore naui hollin è il massimo simbolo nahuatl la lingua steca e rappresenta la presenza di Dio la luna si presenta tra il giorno e la notte mezz zi ko significa il centro della luna e qui probabilmente abbiamo l'etimologia del nome della nazione il messico attenzione qui angelo ale ali quetzal il pellicano unisce la tunica che rappresenta la terra con il manto del cielo ora tutto questo insieme secondo me il messaggio più importante che dà è l'unione di due culture perché nel 2023 forse è ora che passiamo dalla religiosità alla spiritualità e capire in termini cosmici che siamo tutti frammenti di un'unica coscienza superiore no? aspettate aspettate che ci sono le ultime chicche guardate questo anzi alle ali l'angelo no? alle ali del quetzal che cos'è il quetzal? il serpente piumato ma è anche un volatile della giungla del messico dei vari siti maya con questi colori rossi giallo e verde ora sia gli aztechi e ancora prima i toltechi con Teotihuacan ma anche i maya avevano una tecnologia incredibile e qua ci uniamo sempre tra spiritualità e tecnologia cos'erano riusciti a fare i maya guardate qua questo è Ciccenizza sito fantastico chi ha la fortuna di visitarlo come noi può avvicinarsi alle scale del Tempio Maior ed effettuare una semplice azione che ora vedrete questo è un semplice è molto semplice comeusa quando ti la seamlessly confrontarmi av full una luентina solà laBSO ESO in prima così ov ecco 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 evo 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 am Niente succede. Come here? The sound comes back. Why sounds like a bird? Non ask me that. Because we don't know. Secondo me questa cosa è straordinaria. Ora, se noi andiamo a prendere, vedete le sincronicità, no? Alberto prima ha parlato di Ezechiele e ci ha spiegato il linguaggio di Ezechiele. Perché Ezechiele parlava di ruote e occhi? Perché erano personaggi di un'altra cultura, di un'altra conoscenza. Erano cacciatori, raccoglitori, vivevano nelle tende, non conoscevano l'aviazione. Quindi una cosa che vola nel cielo con una luminescenza, come la può definire? Carro. Ha dei cerchi, sono ruote. Ha delle sfere, sono occhi. Come potevano conoscere navi volanti, astronavi e conoscere un qualcosa che vola nel cielo? Non poteva. E quindi questo è il caro di fuoco di Ezechiele. Che cosa vede anche Ezechiele? Vede quattro cherubini chiamati, che vennero poi chiamati successivamente, i tetramorfi. Cosa sono i tetramorfi? Andiamo a vedere l'etimologia. Tetra, quattro. Morfi, morfologia. Forma. Le quattro forme. Ora, i quattro tetramorfi che vediamo attorno spesso al Cristo pantocratore sono i quattro evangelisti. E come mai a ogni evangelista è stata data quella forma? A Matteo è stato assegnato l'uomo alato, l'angelo, perché il suo vangelo è incentrato sull'umanità del Cristo. A Marco il leone perché ne esalta la maestosità, la potenza, essendo il re dell'universo e il leone il re della foresta. A Luca viene associato il bue o il toro perché il suo vangelo è incentrato sul sacrificio. Ed erano i sacrifici che si facevano allora. A Giovanni cosa viene associato? L'aquila. Benissimo. Perché il suo vangelo descrive l'incarnazione di cosa? Del logos. I greci lo chiamavano in logos la vibrazione, lo spirito divino. Il quale cosa fa? Oltre ad agire anche dopo la morte del Cristo. L'aquila discende, quindi lo spirito discende allo stesso modo e vede oltre. Perché vedendo dall'altro si vede oltre. La bandiera del Messico che cosa ha al centro? Un'aquila che agguanta un serpente. All'inizio, diciamo, nelle età ancestrali azteca, le connessioni che avevano spiritualmente parlando con chi stava più evoluto di loro, gli disse, quando vedrete e dove vedrete un'aquila che discende a branca il serpente, lì costruirete Tenochtitlan. Cioè la città che sta ora sotto le fondamenta di città del Messico. E anche qui abbiamo un'unione di culture. Ora, chiudendo il cerchio, abbiamo visto prima il nome di Juan Diego, no? Juan Diego Cahuatlatoatzin. Cosa significa in azteco? Colui che grida come un'aquila. E a me piace dire, in questo caso, visto ciò che ha vissuto con la donna vestita di sole, colui che grida come colei che vede oltre. Ed è colei che ha unito le due culture. Ora, tornando ai video di prima, questa è la via Juan Fran de Zumarraga, intitolata al Vescovo, no? Che porta, vedete, verso la vecchia basilica di Guadalupe. Potete vedere quanta gente c'è, ok? Decenni fa, le autorità messicane vietarono certi camminamenti in ginocchio, col cilicio, e si frustavano. Perché erano scene, ovviamente, non proprio belle da vedere. Però cosa abbiamo qui? Abbiamo il mercato, il famoso mercato del Tempio, no? Che si crea ovunque in questi luoghi. Qua ci si avvicina all'ingresso. Questo è l'ingresso, vedete, frontalmente c'è la basilica di Guadalupe, mentre sulla sinistra abbiamo la chiesa nuova, dove è conservata la cappa di Juan Diego. E ovviamente, per evitare che qualcuno possa fare cose come il famoso Laszlo Tot, colui che ruppe le dita della Vergine nella pietà di Michelangelo, alla sinistra di questo circolo si trova l'ingresso per andare a vedere la cappa. ed è molto emozionante, perché si sente una vibrazione forte quando vedi quell'immagine. Ora voi vi starete chiedendo, ma quindi qual è la sorpresa? Solo queste chiacchiere? No. Perché anche lì, alla Vergine di Guadalupe, diciamo, c'è dell'acqua. Siccome io mi avvezzo a studi di un determinato tipo, essendo laureato in scienze dei beni culturali, specializzazione in paleontologia, eccetera, il cielo mi ha donato una compagna che studia radionica. La radionica è un qualcosa che può informare le sostanze, fra le tante cose che fa anche la guarigione. E quindi, con un'acqua normale purificata, noi abbiamo informato alcune bottiglie di acqua normale con l'acqua di Guadalupe. E chi vuole, adesso la tiriamo fuori, ne potrà bere un sorso o là. Questa è la sospresa, spero sia gradita. Grazie. 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 Grazie.